Ben ritrovati qui sulle fonti tv, stiamo per partire con il nuovo programma doppio binario proprio qui nei nuovi studi televisivi. Di cosa parleremo oggi Gabriele? Un tema molto caldo, Simona, parleremo dell'impatto del coronavirus sulle responsabilità del datore di lavoro, quindi qual è la nuova organizzazione del lavoro che stanno impostando le aziende, cosa succede in caso di contagio di uno dei lavoratori, quali sono i nuovi rischi e quali le criticità dal punto di vista normativo. Sono solo alcuni dei quesiti che affronteremo durante questa prima e intensa puntata di doppio binario, ma non anticiperei altro. Va bene, allora restate qui con noi, a tra poco. Come anticipato in apertura, questa puntata è dedicata al coronavirus e al mondo del lavoro, andremo a vedere con i nostri ospiti studio qual è l'impatto della pandemia sul mondo del lavoro, e ci racconteranno proprio qui quali sono stati, in che modo è stata organizzata l'attività di lavoro nel proprio ambito, presso la propria impresa oppure i propri studi, ce lo diranno sulla base delle proprie esperienze e delle proprie competenze professionali, ma guarderemo anche tutto questo sotto il profilo normativo, andando a capire anche come cambia la responsabilità del datore di lavoro post-covid. E lo facciamo proprio qui oggi con i nostri ospiti, un saluto innanzitutto l'avvocato Cito, Barbara Cito, partner dello studio Legale Lombardo. Buonasera. E in collegamento, qui in studio abbiamo anche la dottoressa Alessandra Benevolo, HR Director di Ipsen. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Dunque io partirei proprio con lei, le vorrei ecco chiedere, dottoressa Benevolo, come è stato organizzato il lavoro durante il lockdown e se sono emerse delle criticità, cosa ci può raccontare? Grazie della domanda, grazie dell'invito, sicuramente è stata una fase densa e impegnativa per tutti quanti, per chi si occupa di lavoro sia sul fronte aziendale che sul fronte normativo come l'avvocato. Ipsen è una biotech di casa madre francese, delle filiali che ha sparse un po' per tutto il mondo, che sono filiali solo commerciali, quindi noi non abbiamo produzione. Che cosa è successo? La nostra unica sede fisica, quindi gli uffici, sono a Milano. Il sabato in cui Regione Lombardia ha dichiarato che chiudeva i confini della Lombardia ci siamo sentiti a livello di comitato di direzione, ovviamente le multinazionali sono dotate di procedure in caso di crisi, quindi questo ci ha molto facilitato l'organizzazione del comitato di crisi, di tutto quello che dovevamo fare e dal lunedì successivo eravamo tutti a casa, tutti con una diversità da un punto di vista di contenuto professionale. Allora, per quanto riguarda i colleghi che hanno attività svolte normalmente in ufficio, hanno trasferito quello che avevano sulla scrivania, sia metaforicamente che fisicamente, su un tavolo di casa che poteva essere la cucina piuttosto che la sala, piuttosto che lo studio e quant'altro. Noi abbiamo una tradizione di smart working già da cinque anni direi, prima del Covid potevamo fare, possiamo fare due giorni di smart working alla settimana, in realtà sappiamo tutti benissimo che quello che i lavoratori hanno fatto non è smart working, però abbiamo dovuto reagire a quella che era l'emergenza. Quindi da un punto di vista di efficienza, di produttività, di mandare avanti la macchina aziendale, il mondo uffici non ha avuto nessun tipo di rallentamento, nessun tipo di blocco. Per noi all'incirca una metà di popolazione è uffici, l'altra metà di popolazione, essendo una biotech farmaceutica, lavora sul field. Noi peraltro operiamo in ambito specialistico, ci occupiamo di oncologia e i nostri interlocutori sono gli ospedali, indipendentemente dal fatto che siano istituti pubblici o privati. E chiaramente questo ha determinato invece una riflessione organizzativa molto più profonda, perché gli ospedali avevano tutt'altro a cui pensare che dare retta ai colleghi che andavano a parlargli dell'efficacia dei nostri farmaci. E' pur vero che l'oncologia, come peraltro altre aree terapeutiche, non si può fermare neanche nel momento della pandemia, ma i clinici non avevano il tempo da dedicare ai dipendenti delle farmaceutiche, non soltanto alla nostra. Quindi abbiamo comunque fatto lavorare i colleghi, anche i colleghi del field da casa, facendogli fare tutta una serie di attività che normalmente svolgono durante l'attività che fanno sul field. Ne abbiamo approfittato per implementare un'academy di learning and development, questa rivolta sia ai colleghi di ufficio che ai colleghi di field, con dei contenuti soft che miravano a supportare le persone in un momento anche psicologicamente abbastanza difficile. Noi abbiamo un IAP, che è un Employee Assistant Program, per cui ci sono degli psicologi H24, 7 giorni su 7, a disposizione dei nostri colleghi, qualora qualcuno necessiti di problemi suoi, piuttosto che dei familiari dei nostri colleghi. Al di là però di questo supporto specialistico, ci sono una serie di tematiche come la gestione dello stress, piuttosto che l'organizzazione del lavoro in un contesto in cui si perdono i punti di riferimento, piuttosto che ancora tematiche di organizzazione del lavoro, stando a casa di colpo ci si trova con tutta la famiglia che parla a voce alta ciascuno sui propri contenuti. Quindi abbiamo erogato una serie di contenuti formativi che li supportassero in quel momento e che però potessero supportarli anche pro futuro. Lei mi chiedeva di criticità. Io direi che la criticità maggiore è stata quella tecnologica. Non abbiamo avuto grossi problemi, ci siamo dedicati moltissimo, ma come noi tantissime altre aziende, a sviluppare, a mantenere un collante molto stretto con tutti i colleghi, attraverso webinar, attraverso teleconference, attraverso tutte quelle metodologie che il digitale aiuta a fare. Lo scoglio più impegnativo è stato, come dicevo prima, lo scoglio tecnologico. Le nostre persone erano già dotate fortunatamente sia di laptop che di cellulare, per cui erano nelle condizioni di poter lavorare, però come tutti abbiamo avuto come esperienza passare tutto il giorno da una call all'altra sullo schermo piccino di un laptop, dopo qualche giorno si comincia veramente a fare fatica. Piuttosto che le piattaforme di colpo sovraccaricate da tutto il mondo che le utilizzava per collegarsi diventavano particolarmente instabili, quindi problemi non soltanto di video, ma problemi anche di acustica. E da questo punto di vista chi aveva le cuffie, chi le ha prese, chi si è attrezzato in vario modo. Abbiamo fatto partire, e a differenza della Learning Academy, che sta quasi terminando il work stream della digitalization, è tuttora in corso, abbiamo fatto partire un'analisi su tutto ciò di cui le nostre persone avevano bisogno, avrebbero avuto bisogno e non avevano, proprio in termini di supporti tecnologici, e a valle di quelli che sono i risultati, ci organizzeremo per dotare tutti, indipendentemente da quello che sarà, speriamo di aver finito con i regimi di lockdown, però di dotare tutti quanti di tutti i supporti. La ringrazio, poi magari ci ritorneremo di nuovo su questo argomento tra un po', in quanto vorrei dare la parola all'avvocato Cito, che è qui in studio, e a questo punto non mi resta che chiederle. Allora, come cambia la responsabilità del datore di lavoro post-Covid, visto che, come già accennato dalla dottoressa Benevolo, ci sono stati tutta una serie di problematicità, anche se di natura magari legata più all'informatica, ma poi magari questo è un caso specifico, poi ce ne saranno state sicuramente altre in altri contesti. Ecco, le chiedo, dal punto di vista normativo, cosa ci può dire? Sicuramente la responsabilità del datore di lavoro in generale è abbastanza ampia, perché il datore di lavoro deve assicurare la sicurezza, la tutela dell'integrità fisica, ma anche psichica del lavoratore, e non solo, ai sensi del decreto sulla sicurezza, deve anche assicurare la sicurezza delle persone, dei terzi che entrano in contatto con l'azienda, che anche semplicemente entrano in un'azienda, ma non hanno un rapporto lavorativo. Quindi, con la pandemia, il problema principale è stato quello di dover cercare di tutelare tutti questi soggetti, che siano lavoratori o che siano terzi, dal contagio. E la problematica è abbastanza rilevante, perché laddove sussistano determinati elementi, ossia vi sia il dolo, anche eventuale, o la colpa grave del datore di lavoro, questo non risponderà più soltanto con una responsabilità civile, quindi per quelle previsioni normative dell'articolo 2087, ma anche con una responsabilità penale, penale che vuol dire possibilità di fattispecie quali lesioni gravi e gravissime, o addirittura di omicidio colposo. Quindi, diciamo che questa è stata una problematica abbastanza calda, anche alla luce di quella che è stata una previsione dell'INAIL. Infatti, il contagio da Covid rientra nell'infortunio sul lavoro. Questo da norme generali, ma è stato riprevisto nuovamente nel Decreto Cura Italia, che l'ha specificato, e l'INAIL, prevedendola questa tutela assicurativa, ha cercato di agevolare il lavoratore nell'onere della prova, prevedendo per alcune categorie delle presunzioni di contagio all'interno del luogo di lavoro, o comunque di contagio in occasione del lavoro. in modo tale da assicurargli questa tutela. Ma a questo punto c'è stata una diatriba su quella che poteva essere la responsabilità del datore di lavoro. Se vi è una presunzione di questa tutela dell'INAIL, si temeva da una parte che ci potesse essere una presunzione addirittura di una responsabilità penale del datore di lavoro. Questo sinceramente, da parte di molti, anche a mio sommesso avviso, è stato escluso fin dall'inizio. Però diciamo che ci è voluto un po' di tempo per digerirlo e c'è stata una nuova previsione. Lo stesso INAIL, dal 13 aprile, che aveva suscitato questo boom di quesiti e di dubbi, il 20 maggio ha espressamente detto che quella previsione vale semplicemente per un'applicazione della tutela assicurativa dell'INAIL certamente non può andare ad incidere su quelli che sono dei principi normativi. La responsabilità penale suppone una presunzione di innocenza, non si possono utilizzare presunzioni che potrebbero al più essere utilizzate come indizi gravi, precise e concordanti, nulla di più. Quindi, insomma, tranquilli gli imprenditori per quanto riguarda la presunzione della responsabilità penale non esiste. Perfetto. La ringrazio poi. Lei ha già anticipato un'altra domanda che poi le farò a breve. relativamente proprio a quelli sono appunto, poi le chiederò un po' i rischi, com'è possibile da parte del datore di lavoro organizzarsi per poterli prevenire. Ma ci arriveremo a breve. Io vorrei invece ritornare un attimo con la dottoressa Benevolo, alla quale vorrei a questo punto chiederle, visto che stiamo gradualmente e fortunatamente uscendo da questa pandemia, stiamo ritornando alla normalità, forse potremmo dire ad una nuova normalità. Ecco, io le volevo chiedere, secondo lei, dal suo punto di vista, quale sarà la nuova normalità d'ora in poi? Quindi in che modo vi organizzerete? Smart working? Sì? No? Si ritornerà di nuovo come, insomma, al modello che era presente prima del Covid? Oppure ci saranno delle novità, se vogliamo, anche permanenti sul modo di svolgere il lavoro? Il Covid è stata un'esperienza terribile per tutti quanti noi, sotto molteplici punti di vista. Spero che non vada tutto perduto, nel senso che qualcosa di positivo sicuramente c'è stato e sarebbe veramente un peccato non tenermi conto. da un punto di vista di organizzazione del lavoro ha accelerato in maniera violenta, se mi passate l'espressione, la consapevolezza che la presenza fisica non è strettamente necessaria. Alcune aziende erano più avanti, alcune erano più indietro, ma direi che è assolutamente assodato che si può lavorare, si può performare anche se non si è presenti, se non si è tutti fisicamente vicini. Questo non significa, a proposito di ritornerete in smart working oppure no, questo non significa tutti a casa, come qualche azienda ha dichiarato anche su quotidiani blasonati o perlomeno non significa tutti a casa in dipendenza del tipo di contenuto professionale. In una realtà come la nostra, quindi non ad esempio in una realtà di consulenza dove il lavoro per definizione è fuori dall'azienda perché è presso il cliente, in una realtà come la nostra il senso di appartenenza è comunque molto importante. probabilmente aumenteremo quella che è la flessibilità di cui già godevamo senza però arrivare a snaturarla completamente. Altri aspetti positivi come l'efficienza delle riunioni, una riunione in presenza è molto più come dire dispendiosa in termini di tempo rispetto alle riunioni che abbiamo fatto tutti quanti con i video. Quindi ci sono tutta una serie di elementi di organizzazione del lavoro che vanno salvati e vanno portati in questa nuova normalità senza esagerare e senza farti trascinare dal driver costo. Siccome le persone lavorano e sono produttive anche da casa taglio le scrivanie e riduco i costi di real estate piuttosto che di building di ricci e quant'altro. No, l'organizzazione del lavoro va pensata e va modulata sulla base di quello che è la modalità più efficiente e più funzionale di lavorare. Covid ci ha fatto vedere che può essercene un'altra altrettanto valida ma diversa da quella che utilizzavamo prima io mi auguro che le aziende siano così lungimiranti da tenere in considerazione quello che è emerso. La ringrazio sicuramente facciamo un po' di riflessioni su quanto lei ci sta dicendo probabilmente io aggiungerei che magari è vero che da un lato il Covid ha avuto anche qualche aspetto positivo come lei ha accennato ovvero quello di darci l'opportunità di vedere di verificare sul campo il fatto che possono esserci altri modi per poter svolgere la stessa attività bisogna però capire ecco sperare che l'Italia sia un po' più pronta sotto alcuni aspetti e proprio di questo volevo ecco parlare con l'Avvocato Cito perché capiamo anche bene quali sono quali potrebbero essere i rischi del datore di lavoro post Covid a questo punto e come può organizzarsi per evitarli. Sicuramente il datore di lavoro nel post Covid ha avuto una prima fase in cui prevalentemente c'è stata una sospensione dell'attività a parte alcuni settori in quel caso si è potuto organizzare pur nell'emergenza velocemente e anche abbastanza facilmente la problematica maggiore è stata la seconda fase quella del riavvio di tutte quante le attività perché in quel caso il contagio la possibilità di contagio è più gravosa e ha dovuto quindi prevedere tutta una serie di misure in questo è stato agevolato perché è stato fatto un protocollo di sicurezza a livello nazionale che ha dato delle indicazioni sul distanziamento sociale su quella che è la organizzazione del lavoro e soprattutto è stato agevolato perché seppur c'è una norma che prevede che debba tutelare il toto il lavoratore quindi apprestare qualsivoglia misura di sicurezza essendo praticamente impossibile lavorare con un pericolo zero per quanto si possa organizzare in questo momento si è cercato di prevedere un po' in ritardo perché ci siamo arrivati il 5 giugno però con la conversione del decreto liquidità abbiamo anche detto che è vero che ci sono delle norme generali delle misure di sicurezza però se il datore di lavoro osserva gli obblighi dei protocolli non soltanto a livello nazionale ma ovviamente tutti quei protocolli settoriali che sono stati previsti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a quel punto potrebbe essere esonerato da responsabilità e quindi diciamo un'organizzazione un po' meno gravosa però sicuramente ha dovuto riorganizzare il lavoro e anche gli spazi gli orari e quindi è un lavoro in itinere che in alcuni casi per alcune aziende ha anche spinto ad una apertura in ritardo perché non si sentivano pronti per paura di quella famosa responsabilità che è un po' grava sul datore di lavoro speriamo in futuro di risolvere un po' di problemi ancora rimasti in sospeso anche dal punto di vista normativo ma è come dire work in progress ci stiamo lavorando io ringrazio non mi resta che ringraziare gli ospiti qui in studio ringrazio innanzitutto la dottoressa Alessandra Benevolo di Ibsen e ringrazio ovviamente l'avvocato Barbara Cito signor partner dello studio legale Lombardo qualche minuto di pubblicità e poi rientreremo qui in studio con la seconda parte del doppio binario con Gabriele Ventura e i suoi ospiti restate qui con noi eccoci per la seconda parte di doppio binario se nella prima parte abbiamo affrontato maggiormente le problematiche dal punto di vista organizzativo che stanno affrontando le aziende in questa seconda parte ci concentriamo invece sull'ambito più diciamo normativo mi ricollego anche all'intervento precedente insomma dell'avvocato Cito che faceva riferimento insomma anche al periodo di incertezza che è trascorso durante il lockdown ad aprile con le circolari INAIL che si susseguivano e che hanno creato parecchia incertezza sulle responsabilità del datore di lavoro soprattutto dal punto di vista penale adesso pare ormai assodato il fatto che se il datore di lavoro rispetta i protocolli e le linee guida a livello nazionale e regionale è esente da qualsiasi tipo di responsabilità ma ci sono vari ma sicuramente perché appunto vedremo se effettivamente la normativa è chiara e lo faremo grazie ai nostri ospiti l'avvocato Barbara Cito dello studio legale Lombardo ancora qui con noi buonasera da parte mia e il dottor Luca Battistini direttore risorse umane e organizzazione CAP PLAST buonasera e benvenuto buonasera a tutti voi in collegamento chiaramente e purtroppo insomma finché le normative anti-covid resteranno in vigore anche per il settore televisivo e avvocato Cito io do subito la parola a lei e le chiedo appunto quali sono gli aspetti normativi poco chiari insomma lei diceva giustamente la sella polare e il protocollo del 24 aprile diciamo che in generale durante questa emergenza ci sono stati dei dubbi che si sono susseguiti a volte si è cercato di andare a porre rimedio con le successive disposizioni nel caso della responsabilità penale ormai nel settore si ritiene superato il problema è pur vero che non vi è una norma specifica non vi è una norma specifica perché si dovrebbero applicare le disposizioni generali però forse una previsione a questo punto anche Chiara potrebbe togliere ogni dubbio così come invece c'è stata una previsione specifica sul 2087 perché lasciare il datore di lavoro con questo peso con questa sfada di Damocle del dover attuare qualsivoglia misura di sicurezza comportava una responsabilità troppo gravosa proprio perché il pericolo zero non era possibile ovviamente la responsabilità è venuta un po' a mutare nel tempo perché con questi protocolli oggi l'applicazione di questi protocolli permette di dare un'indicazione però a prescindere da questo rimane secondo me un problema cruciale da una parte più che altro sulla responsabilità civile a questo punto da una parte la previsione della tutela dell'infortunio sul lavoro come contagio covid da parte dell'INAIL potrebbe prevedere perché non è stata esclusa esplicitamente un'azione di rigresso da parte dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro il quale si troverebbe così esposto ad una responsabilità e allora come andare poi a gestire questa responsabilità del datore di lavoro che dovrebbe comunque essere una responsabilità per colpa non potrebbe essere una responsabilità oggettiva però ci ritroveremo di fronte ad un doppio binario per cui dall'altra parte vi sarebbe stata una tutela dell'INAIL concessa semplicemente con un onere a carico dell'INAIL casomai un'inversione dell'onere della prova per alcune situazioni perché c'è una presunzione di responsabilità per alcune categorie quali sicuramente quella del settore medico-sanitario medici operatori sanitari infermieri e quant'altro e poi anche tutta un'altra categoria che non è stata ben distinta e che però riguardava tutti coloro che sono più a contatto con il pubblico dai cassieri che hanno lavorato anche nel periodo del lockdown e quindi sono stati più esposti al front desk comunque a tutti quegli operatori che si sono interfacciati di più con il pubblico in quel caso la presunzione vale soltanto per la tutela INEIL nei confronti dell'INAIL ok ma nel momento in cui poi l'INAIL dovesse fare un'azione di regresso come andare a gestire questa responsabilità probabilmente sarebbe necessario prevedere un qualcosa di più specifico per far star tranquille anche le aziende tanto più che da parte di alcuni ad esempio la stessa tax force colao aveva previsto e proposto che vi fosse una isenzione completa della responsabilità sia penale che civile del datore di lavoro laddove fossero stati rispettati ovviamente tutti quanti i protocolli previsti protocolli che se c'è quello principale comunque a livello nazionale che può essere più semplice da seguire laddove poi si vada ad interfacciare con un settore specifico e vi siano delle specifiche precauzioni e misure richieste potrebbe non essere così semplice soprattutto per il piccolo imprenditore che magari non conosce quella normativa esattamente e potrebbe appunto e non è credo immagino stato semplice per voi dottor Battistini la vostra azienda poi lei la presenterà sicuramente meglio di me produce contenitori industriali a diverse sedi sparse sul territorio a livello nazionale ma anche all'estero e quindi la difficoltà immagino sia stata quella appunto di coordinarsi con i vari protocolli anche locali assolutamente sì è in dubbio che le criticità ci sono state durante la fase di picco dell'emergenza sanitaria dovute sia a situazioni esogene ma anche endogene indubbiamente era importante cercare di mantenere stabile la tenuta psicologica delle risorse presenti all'interno dei vari stabilimenti questo a prescindere poi anche dalla parte normativa che comunque è assolutamente peculiare e fondante e quindi come cercare di ovviare alle criticità abbiamo cercato di far leva su quelle che sono due fari che ci hanno guidato in questo contesto sicuramente la resilienza e la condivisione questo ci ha consentito di ampliare quello che era il dettato normativo previsto dal primo protocollo stato sindacati dello scorso 14 di marzo dove praticamente venivano dettate quelle che erano le linee guida per la tutela e la prevenzione e la protezione dei lavoratori all'interno delle aziende che potevano tra l'altro continuare a svolgere la propria attività lavorativa perché rientrano nel famoso legato 1 del DPCM dei 14 anni bene noi effettivamente venivamo identificati come aziende essenziali al ciclo produttivo del sistema Italia e quindi ci siamo adoperati per cercare di adempiere al protocollo stilato dal governo e dalle parti sindacali ma anche cercare di guardare oltre di andare di prevenire non soltanto il covid ma cercare di mettere in atto tutte quelle buone prassi quelle buone pratiche adoperando un po' la dirigenza del buon padre di famiglia calata all'interno degli stabilimenti industriali sia in Toscana che all'estero e negli uffici commerciali che abbiamo nella San Milano quindi cosa abbiamo fatto abbiamo istituito delle commissioni sia a livello più prettamente direttivo di top management dove abbiamo cercato di condividere quelle che dovevano essere le idee da applicare in maniera molto celermente all'interno dei vari stabilimenti e ovviamente collegandosi da remoto per chi non poteva essere presente nello stabilimento abbiamo poi portato queste idee all'interno di una commissione bilaterale costituita ovviamente dalle parti sindacali presenti all'interno dell'azienda ma non solo in esse vi abbiamo fatto concluire anche le persone specifiche deputate alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione quindi sto parlando lato datoriale dell'RSPP lato lavoratori dell'RLS a queste abbiamo integrato delle figure di management che volta a volta venivano convocate per poter esporre quelle che potevano essere delle soluzioni tecniche di prevenzione e protezione quindi ovviamente la direzione tecnica di stabilimento la direzione information technology mautentiva le direzioni eventualmente commerciali per delle iniziative che dovevamo prendere qualche riferimento agli uffici commerciali cioè fondamentalmente abbiamo cercato come vi dicevo poco fa di rendere operativo quello che è il concetto della condivisione su più strati su più livelli e avevamo bisogno dell'aiuto di tutti per poter affronteggiare in maniera adeguata e degna di questo nome questa emergenza sanitaria siamo stati bravini nel senso che siamo riusciti a prevenire fino ad oggi quanto meno qualsiasi insorgenza di casi covid all'interno dei nostri stabilimenti siamo riusciti a farlo solo grazie all'intervento alla partecipazione di tutti da soli non ci saremmo riusciti questo appunto è un caso virtuoso però ci sono stati dei casi in cui effettivamente il contagio è avvenuto basti pensare al settore della logistica avvocato per cui le chiedo secondo lei quali saranno poi anche gli effetti sul contenzioso cioè ci sarà un proseguio nella prima fase ci sono stati dei casi proprio da contagio per colpa del datore di lavoro in molti molte fattispecie in realtà non c'erano proprio i dispositivi di sicurezza è pur vero che i dispositivi di protezione non erano facilmente rinvenibili in quel momento quindi una colpa del datore di lavoro sicuramente ma anche una impossibilità e quindi su questo si apriranno dei contenziosi per quanto riguarda il secondo periodo invece la responsabilità e il contenzioso potrebbe riguardare da una parte proprio l'organizzazione lavorativa e quindi secondo me non soltanto direttamente la problematica del contagio quanto anche la problematica di quella che è l'organizzazione dello smart working e quant'altro che in questo momento sta un po' muovendo tutti quanti i lavoratori c'è chi vuole ancora lo smart working chi non lo vuole e quindi una serie di contenziosi di minimo di minimo conto se vogliamo anche dire che però tutti insieme possono provocare comunque dei danni all'azienda rispetto a quello che è invece una problematica da contagio che forse in questa seconda fase sentiamo di meno a prescindere da alcuni settori specifici dove ancora purtroppo due diversi sulla nuova organizzazione del lavoro ci sono già stati diversi casi diversi provvedimenti in urgenza sulla possibilità o meno di lavorare smart working su quello che poteva essere un diritto o meno dello smart working su questo si è molto contestato e questo diritto non esiste in assoluto in astratto bisogna vedere quelle che sono le condizioni quelle che sono le mansioni esatte che il lavoratore va a svolgere e quindi la compatibilità con l'organizzazione aziendale in un primo momento ovviamente stavano quasi tutti a casa nella maggior parte dei casi c'è stata una sospensione dell'attività dove non c'era si è potuto agire il smart working e poi che però non ero il problema è che non essendo un vero e proprio smart working che in realtà diciamo hanno lavorato in telelavoro perché c'erano delle condizioni completamente diverse era assolutamente dichiarato che non vi fossero le condizioni previste dalla disciplina dello smart working perché veniva a mancare di base l'accordo quindi già per questo ma la mancanza dell'accordo ha comportato di riflesso tante altre problematiche l'impossibilità del controllo la problematica dell'utilizzo di comunque device di proprietà del singolo i quali provocano a loro volta delle problematiche perché se dovesse accadere qualcosa nell'utilizzo di quel computer ma per dire in moltissimi casi abbiamo avuto aziende che ci hanno detto stiamo ricevendo contestazioni semplicemente perché i lavoratori avevano il problema della sedia ergonomica o non ergonomica perché poi ci si va a studiare la normativa e si vede che la responsabilità per la sicurezza del lavoratore continua a sostistere anche in questo momento ma in realtà può essere assolta semplicemente con una informativa perché nel momento in cui si sta smart working non poteva certo il datore di lavoro intervenire quindi diciamo due tipi di responsabilità e due tipi di contenziosi completamente diversi di rilevanza sicuramente profondamente differente che però poi vanno devono essere gestiti e sul grande numero probabilmente troveremo più un contenzioso di organizzazione un fuoco incrociato dal punto di vista del datore di lavoro in questo momento che si è trovato esposto appunto a quelle che sono dei rischi ai quali non era pronto non era pronto neanche allo smart working in effetti se non in certe aziende esatto e lei dottor Battistini le chiedo qual è stata la vostra esperienza in questo senso noi abbiamo cercato un'azienda produttiva quindi chiaramente tra l'altro si rientrava come vi ho detto nel legato 1 e quindi abbiamo avuto la fortuna direi di poter continuare a produrre pur con tutte le difficoltà anche di approvvigionamento prodotto delle materie prime o di esportazione di un prodotto finito che addirittura non poteva uscire dalla regione se vi ricordate c'erano anche queste problematiche abbiamo cercato di gestire il gestibile in una vacatio iuris per così dire perché sì lo smart working è applicabile ma non è applicabile per tutto per tutti per tutte le funzioni l'abbiamo applicato e ci rendiamo conto mi rendo conto in prima persona che è uno strumento di cui poi non potremo più fare a meno ma lo dobbiamo necessariamente rivedere e correggere cioè se noi pensiamo che la legge che lo disciplina e risale al 2017 l'81 del 2017 e consta semplicemente di 5 articoli che disciplinano lo smart working ci rendiamo conto che forse si necessita di una revisione e una revisione anche perché sta diventando un fenomeno di massa che ha una diffusione ormai inarrestabile sta cambiando praticamente radicalmente la relazione che esiste tra uomo famiglia dipendente azienda e società civile ma non è soltanto lo smart working su cui noi dovremmo andare poi dopo apporre la nostra attenzione sicuramente avete visto in queste settimane di emergenza come c'è stata una proliferazione normativa giuridica a volte per decreti di emergenza poi decreti di conversione ma questo a livello nazionale che si sono susseguiti in maniera continuativa e a livello regionale molto spesso anche ordinanze regionali confliggenti non solo con quelle di altre regioni ma anche con quelle precedenti della stessa regione quindi per aziende tipo la nostra multisite allocate in diverse regioni vi lascio immaginare la difficoltà a mettere insieme gli elementi di questo puzzle e quando si pensava di aver trovato il pezzo giusto a inserire nel nostro disegno in realtà ci si rendeva appunto che no guarda è cambiato perché questo valeva fino a ieri e oggi no è diversa c'è la nuova ordinanza 48 bis emanata a mezzanotte che ti va a spesso poi le ordinanze precedevano i decreti e c'era poi anche una una battaglia politica chiaramente che purtroppo come sempre in Italia purtroppo non ci sono neanche pronti attivazioni avrei passato ma le racconto un ultimo elemento giusto per dalle poi il metro della valutazione si ricorderà sicuramente che sia nel primo protocollo che nel secondo protocollo si faceva riferimento alla categoria dei lavoratori fragili ovvero sia di quei lavoratori che per loro condizioni sanitarie in quanto immunodepressi o afflitti da patologie croniche cardiache o oncologiche erano coloro i quali più facilmente esposti e la possibilità di andare a comprare il virus bene dobbiamo le aziende le devono tutelare siccome le mettiamo in ferie andiamo a sfruttare i rate immaturati non goduti dell'anno precedente va bene ok quando sono finiti allora emissioni di certificati e su questo si è aperto il mondo l'Emilia Romagna ha legiferato in una certa maniera la Toscana ha legiferato in maniera totalmente differente la Lombardia ideme signori mettetevi d'accordo assolutamente bene io insomma abbiamo aperto diversi fronti in questo interessante dibattito purtroppo il nostro tempo è esaurito vi ringrazio molto per essere stati con noi l'avvocato Barbara Cito studio legale Lombardo grazie e il dottor Luca Battistini direttore risorse umane caplast grazie anche a lei per essere stato con noi grazie a voi bene un saluto anche ai nostri telespettatori appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario grazie a tutti